Ciao ragazzi, ben ritornati in un nuovo video oggi volevo fare una stanza per i miei cani per chi non avrebbe visto qua sopra uno si chiama Max uno Biscotto, uno Maxita così almeno a uno ha messo cane e voi vi mette di fare una stanza per loro visto che non hanno nessuna stanza e stanno lì a vivere male quindi volevo iniziare a fare la loro stanza allora qua è un po' brutto qua potremmo fare potrebbe andare giù meno utilizziamo il mio piccone e ora vi lascio allo scavo ok Finito di scavare, ora mettiamo i blocchi, vi lascio la clip velocizzata. Ok ragazzi, ora che abbiamo finito di fare la stanza, questo qui lo modificherò, ora facciamo la casetta per i miei cani, qua così, poi facciamo una roba così, qui una porticina, ok, qua potrà restare così, e ora portiamo i miei cani. Max, sei un po' troppo veloce. Ah vero perché voi due eravate fermi, ah qua vabbè, faccio oggi live su Twitch, ok, ora Maxita e te state qua, ora qua modifico con la terra, se no io mi arrabbio, è l'altra scherzo, ok, facciamo qua tutte queste robe, così almeno siamo a posto. Se fare il pavimento in terra non è che sia troppo bello, ma se si trasforma in erba sarebbe molto meglio. Allora, qua, ok, così non mi confondo. non dico che sto pensando che era una ghiaia, che non era neanche la ghiaia, ok, qui si deve trasformare tutto in erba, e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!